Ciao a tutti ragazzi, io sono TheLioner e in questo video sarò in compagnia di un ragazzo con il quale non ho ancora fatto gameplay, lui si chiama Gabi e l'ho conosciuto appunto sul mio clan l'Italia Fakin' Anstom su APB. Quindi spero che il video vi piaccia, lasciate un bel commento e soprattutto iscrivetevi al canale perché ci tengo veramente, quindi vi lascio il suo link del canale in descrizione, mi raccomando, ciao a tutti. Faci tuo. Mori. Wow wow wow, e tu chi sei? Ah, è dietro di te, ok. Tecarmatosa, ah sì, la Cal Whisper, è vero, quella del retail. Esatto. Ah poi mi stai facendo notare i tuoi aggiornamenti per il personaggio. Cioè proprio fiera con i nuovi aggiornamenti. Io? Sì, certo, ovviamente, cioè io ho finito il gioco, voglio avere tutto. No, io l'unico che uso bene diciamo è Carsurfer che mi serve sempre, però Rigenerazione la lascio tipo sempre, cioè mi serve sempre Rigenerazione. Carsurfer è utilissimo, cioè io adoro usarlo con l'Alig perché è troppo veramente potente. Ma è vero che sembrano down i bimbi di, no, i nipoti di Jerry Scotti? Ma poverini, non fai... Ma è vero cacchio, è vero. Allora, ricordati comunque che io, anche se gioco ai videogiochi, sono comunque una ragazza, quindi cioè i bambini non vengono i tuoi. No, vabbè, sì. No, vabbè, hai ragione anche te, hai ragione, hai ragione. Però vabbè, sì. Cioè, ma scusa, è quello con gli occhiali. Eh, è adorabile. È adorabile, sì. Me lo trovo qua di poco lo strozzo. Certo, sì, stai? No, ma p burnt alta. Sono un po' troppi di sopra. Oh, 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 oh mio... Oh, mio Dio, ho visto solo che mi ha fatto un motives place. Oh, 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 ma ho ancora dentro la macchina. Sì, è uscito adesso. Ho vabbè, ho tanto conciuto. Eh, vai. Oh, hai 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 la data lomba. Sì, sì, sì. Sta macchina qui, oh, tio, di, di, di! Oh, no, aria, no, dietro. No, non l'ho visto. Perché mi lagga? Oddio, l'ho ucciso, mi rara. ma questo mi ha lanciato una bomba a me no no non si lanciano le bombe ma qual è la parola preferita la mia armata di talisti direi mamma mia andiamo sul sicuro oddio come ho fatto a mancarlo ce la fa ucciderla aspetta trovo io 3 3 e non so ancora morto sai che sa il sistema non è matrimonio tiene anche una bomba praticamente inguola a sicuro a tecno sotto che abbastanza ferito ciò farò odio di la presenza ecco che i coperti il mio corriso araberta riccambiano a교 a stuola portata. abbiamo fatto la parola al palo che parla Che lato hai fatto? Ok, ho beccato il lato giusto Ok, ok, ce la faccio Dai che ce la fai Bella, 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 così si fa Mamma mia, non potevamo perdere La questa davvero, sto facendo 9 kill Ed è strano Io so che c'è una presenza Meschina e oscura dietro di me Ma io scappo col pacco Giustamente, aspettami Ma infatti se ne sta andando Felicemente anche lui Io dobbiamo dare la nano, la nano, la nano Che tu mi invidi Beh, infatti sei, boh, sei cattivo Oh, 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 a me dov'è E qui Oh, grazie Attento, 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 attento Aspettate, mi uccido comunque perché sono messo male Ah, però se ne ho un altro qua Ce l'hanno sopra, ce l'hanno sopra, ce lhanno sopra, ce lhanno sopra, ce lhanno sopra, ce lhanno sopra Ah, 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 sì, 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 sì Vabbè, te lhanno sopra, mi uccide Attento, ti è venuto in conto, ti è venuto in conto Ti vuole far male, ti vuole far male, ok No, è che dopo ci sono le I pick up, io odio con tutti i miei cuori i pick up Cioè, meglio, neanche i capture, proprio le kill Insomma, le kill sono più nobili I pick up invece pigli, se ne vai Sì, è vero, sono veramente noiosi È un correrci dietro Oh mio Dio, è qui Questo strozzo stava nascosto Non si fa, non si fa, non si fa Ma, muori, 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 ok, è morto Ecco, no Ma preoccupò, ma donna, te lhavo detto, fuori, vieni fuori dalla porta, mi fuori dalla porta, così te lo cecchino Eh, no, 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 era una sfida tra me e lui, che stava qua nascosto Era quello con il Gigi, sì, oddio, ciao Ecco, bravo, Ed, contento te Con le perche Muori, no, non mi uccidere, non mi uccidere, non mi uccidere Ed3312 sta facendo Bellissimo Ma perché, perché mi fai così Oh, brivido Ma quello con l'altra che poi è nabbo, non riesce proprio a beccarsi Sì, ma adesso tipo mi è arrivato, ah, mi sparava praticamente sul naso, quindi insomma Ah, arriviamo di qua, ti copro io Dai, ucciso Benvenuti su APB News, il canale che fa per voi Lo sapevate che APB è un gioco istruttivo? Non ne siete sicuri? Avete qualche dubbio? Bene, guardatevi questa clip per chiarirvi le idee Ci sei mai stato te nel server Don Kong? No, mai Mamma mia, tutti quanti fanno tipo, non so Non so, eh Mettono un nome E poi alla fine ci mettono Chan Ah Per fare i figli Sì, vabbè, perché Io mi chiamo Gabri Io mi chiamo Gabri Perché Chan vuol dire giovane Ehm, sensei, vabbè, adulto Però anche Sama vuol dire persona un po' più grande Luca Chan, vedi, anche qua si chiama Luca Chan Eh, vedi, vuol dire che è piccolo, è giovane Cioè, io so tipo o Tusan e o Kazan che sono mamma e babbo No, 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 io voglio rilasciare Cavolo, e te mi rompi le palle, che non ho C'è un altro qua, credo, sì E ti sta fregando il pick up, brutalmente Oh, no, ciao Pensaci tu, te sei bravo con la whisper, vero Aspetta, ci penso io Ah, forse no Sì, forse sì Maia, forse Bella, 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 prendiamoci pk Uh, 30 kill Non so, è da sacurizzato che non faccio 30 kill, sai Ma ci credo, non è che tutti i giorni uno fa 30 kill, così Penso che 35 ti regalano un peluche Ah, sarebbe forte Il peluche Mi mandare il simbolo del peluche L'orzetto teddy No, sì, setto teddy Piacevole pensarla così Peccato che non mi regalano una maniera della mia vita Che tu Eh, è verso sud Sì, sì, l'ho visto, no E' un'è dentro E' un'è dentro Ah, via 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 via, certo Oh, mio Dio Ecco, a posto, bravi No, da dietro Tutti infami Alle spalle non ci si colpisce Brutte merde Solo io posso Giustamente Eh, vedi Fernandez morto Odiva il secondino nabbo Bravo, amico mio Hai finito con le percussioni che sei nabbo Eh, stupido due volte Ti lanci le bombe in faccia, cotino Jacket Oh, jacket Bella Bella Bella, dai Non ci credo mai E invece, ecco, lo finiamo con te accanto Perché tu sei sdraiato per terra Io ti sto osservando Appunto Bello Ambiguamente No, sei sparito Volevo ballare sul tuo corpo morto Ok, dai ragazzi Per questa sessione di registrazione è tutto Se volete altri gameplay con The Lionel o con me Basta che lo scrivete nei commenti Ovviamente E ci vediamo in un prossimo episodio Ciao 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 Ciao